Musica Spacciava cocaina in manette 21enne, l'uomo è stato sorpreso da una pattuglia del commissariato nella zona degli istituti superiori in Darsena, sequestrate 22 dosi di stupefacente. Approvato il nuovo piano per gli arenili, il documento punta a ridisegnare la costa massese, adesso inizia la fase delle consultazioni pubbliche, soddisfatto il Consorzio dei Balneari anche se non mancano i punti su cui poter ancora intervenire. A Villa Bertelli la genetica della non violenza, una mostra di foto e dipinti ed un progetto con le scuole per promuovere la cultura della non violenza. Le stelle dello sport al premio Viareggio, l'evento giunto alla sua 39esima edizione ha visto premiati i personaggi del calibro di Fabio Capello e Alex Del Piero. Ben trovati a questa edizione di TG Noi, Versilia e Costa Puana. Apriamo con la cronaca questo arresto da parte del personale del commissariato di Viareggio. Un pusher era nella zona degli istituti superiori in Darsena, con lui aveva 22 dosi di cocaina. La polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 21 anni per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad insospettire la pattuglia è stato l'atteggiamento dell'uomo che, sorpreso nel primo pomeriggio di lunedì nella zona delle scuole superiori in Darsena, alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi di una busta. Il 21enne è stato quindi fermato e trovato in possesso di 22 dosi di cocaina per un totale di oltre 18 grammi e una confezione di hashish, nonché della somma di 255 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell'attività illecita. Lo stupefacente e i contanti sono stati posti sotto sequestro, mentre per l'uomo sono scattate le manette ed è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un arresto che ha anche un campanello di allarme riguardo lo spaccio tra i giovani e giovanissimi, visto l'orario e la zona dove è avvenuto, ma soprattutto visto il tipo di sostanza, la cocaina, trovata in possesso del 21enne e che presumibilmente veniva spacciata all'uscita delle scuole. Restiamo con la cronaca perché un camion che stava percorrendo l'autostrada a 12 in direzione Livorno ha tamponato un pullman della squadra giovanile del calcio dell'Empoli, con a bordo dei ragazzi di 16 anni, mentre erano fermi con le quattro frecce al lato della strada per un guasto. L'incidente è avvenuto pochi chilometri dopo il casello Versilia. Il tir ha prima colpito il pullman e poi si è schiantato contro il quadrail. Fortunatamente i ragazzi hanno riportato solo lieve scoriazioni, mentre il conducente del camion ha subito le conseguenze peggiori a causa dell'impatto ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Versilia. E' un incendio doloso è avvenuto alla cava a Castelbaito Fratteta, nel comune di Fivizzano, ad essere incendiati due mezzi della ditta Valton, proprietaria del sito estrattivo. L'incendio sembra sia stato appiccato nella notte tra sabato e domenica, provocando danni per circa 500 mila euro. La ditta è stata già oggetto di un attentato incendiario simile nel novembre del 2022. Cambiamo argomento, occupiamoci del piano degli arenili della costa massese. Il documento è stato approvato dal Consiglio Comunale, adesso però passa alla fase della consultazione pubblica. Adottato il nuovo piano attuativo degli arenili del Viale a Mare, che punta a ridefinire la costa massese e a migliorare la gestione del litorale. Con questa adozione il piano entra ora in una fase di consultazione pubblica. Nonostante l'adozione del documento, infatti, il percorso non è ancora definitivo. Prima dell'approvazione finale è previsto un periodo in cui i cittadini, operatori balneari e associazioni potranno presentare osservazioni. Queste saranno valutate nelle commissioni urbanistiche e successivamente in Consiglio Comunale. Il Consorzio Balnea Rimassa ha già dichiarato che molte delle loro proposte sono state recepite, sebbene vi siano ancora punti su cui sperano di poter intervenire, grazie al dialogo aperto con l'amministrazione. Come costa e come città aspettiamo un piano particolareggiato dall'arenile dal 1989. Quello che è in essere adesso è ancora quello del 1989. Per cui bene che sia stato adottato un nuovo piano datato al 2024. Ne avevamo bisogno. Ovviamente sia dal Consiglio Comunale che dalle commissioni sono emerse alcune criticità per le quali dovremmo fare un approfondimento. Tra le principali novità del piano, illustrato dall'assessore Alice Rossetti, la ricollocazione della ciclopedorale tirrenica e misure per salvaguardare le strutture balneari dagli effetti delle mareggiate. Tra le criticità emerse, come evidenziato dal Consorzio, la concessione dei Cavalieri del Mare, numero 141. Per avere il cono visivo libero dalla strada i tecnici hanno deciso di trasformarlo in spiaggia libera attrezzata. Vi premetto che la famiglia che gestisce i Cavalieri del Mare ha tre figli, marito e moglie, ed è la loro unica fonte di reddito. Adesso andiamo a Modena dove all'interno del Teatro Pavarotti Freni c'è stata la cerimonia di conferimento delle stelle della guida Michelin 2025. La nostra provincia ne perde due. È sempre il ristorante Il Piccolo Principe di Viareggio, diretto dallo chef Nicola Mancino, la doppia stella Michelin per la provincia di Lucca. La conferma c'è stata durante la cerimonia per la guida 2025, che ha visto l'ovazione per la terza stella raggiunta a Verona da Giancarlo Perbellini e il suo Casa Perbellini, 12 Apostoli. Nella nostra provincia invece quest'anno sono due le stelle che si sono spente, quella del ristorante Il Giglio, i cui chef hanno rinunciato al riconoscimento conquistato nel 2019, decisione che ha scosso un po' tutto il mondo della ristorazione italiana, e quella di Franco Mare, a Marina di Pietrasanta, dove lo chef Alessandro Ferrarini ha dato l'addio per approdare al ristorante La Sciabica. In provincia dunque rimangono Il Piccolo Principe, con due stelle, e con una stella il Butterfly di Marlia, poi la pattuglia Forte Marmina, con il bistrò La Magnolia, Lorenzo e Lux Lucis, e Viareggio, che si conferma con le stelle di Lunasia e dello storico romano, vero e proprio punto di riferimento per la cucina versiliese. Occupiamoci adesso del mercato florovivaistico, bene le scorse festività in occasione dei morti, ma la CIA avverte che il problema principale per questo mercato è la concorrenza sleale che viene dall'estero. Anche quest'anno la ricorrenza dei defunti non ha deluso il settore del florovivaismo in Versilia. Secondo i dati di CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, complici anche le belle giornate primaverili, sono stati moltissimi versiliesi che si sono recati a portare un fiore ai propri defunti. Bene dunque le vendite per i produttori in questo primo weekend di novembre, vendite che vanno ad aiutare un settore che, anche se con alti e bassi, continua ad essere un'eccellenza della Versilia. Bene, ma non benissimo, ha commentato il responsabile di CIA Versilia, Massimo Gai, se indubbiamente il florovivaismo regge, soffre comunque la concorrenza sleale dell'estero. I fiori prodotti fuori dall'Italia, sottolinea Gai, continuano a sottrarre fette di mercato alle nostre aziende, arrivando sui banchi e nei negozi a prezzi nettamente inferiori dei nostrali, a causa di condizioni e restrizioni decisamente diverse in altri paesi, sia sul fronte della tutela ambientale che di quelle legate alla sicurezza sul lavoro. Avremo bisogno, conclude il responsabile dell'associazione, di politiche di sostegno e tutela che permettessero ai nostri produttori di poter lavorare bene tutto l'anno e non solo in occasione di ricorrenze e festività. E adesso andiamo a Forte dei Marmi, a Villa Bertelli. È stata inaugurata, infatti, la mostra legata al progetto La Genetica della Non-Violenza. Taglio del nastro a Villa Bertelli per la mostra Metamorfosi, fotografie e pittura a confronto, realizzata nell'ambito del progetto La Genetica della Non-Violenza, che l'associazione Fortemente Noi porta avanti da quattro anni con il patrocinio di regione, provincia e comune di Forte dei Marmi. Un progetto volto all'istituzione della cultura della non-violenza nelle scuole che quest'anno ha coinvolto anche il liceo scientifico Chini Michelangelo, grazie all'intervento della giornalista Elaria Bonuccelli, ma che nasce soprattutto per rivolgersi a bimbi delle scuole primarie. Attraverso la lettura di libri, attraverso la lettura di storie, di condivisioni, anche di esperienze personali, si sentono liberi attraverso chiaramente varie forme espressive come il disegno, come costruire dei pensierini, dei testi, si va a esplorare il loro mondo, il loro mondo affettivo. La violenza è qualcosa che può essere evitata, che può essere individuata e che può essere prevenuta. Lavoriamo su quello sperando di avere dei risultati. Dalla sua prima edizione, l'iniziativa è stata affiancata dalla Galleria d'Arte Trasmanierismo Contemporaneo, che quest'anno ha portato in mostra le opere di Rossano Dallari e Marco Malavasi, in un dualismo tra pittura e fotografia realizzato appositamente per questa occasione e che sarà visitabile fino al 10 novembre. Quindi con queste opere vogliamo proprio dare un messaggio totale alla non violenza, però una violenza a 360 gradi, quindi la non violenza sulle donne, la non violenza sui bambini, la non violenza e non solo anche la non violenza, anche la pace, la fraternità, eccetera. È un messaggio molto forte che porta dietro appunto il progetto, la genetica della non violenza. Restiamo al Forte, spostiamoci sul mare però, perché l'amministrazione comunale ha rinnovato per tre anni l'affidamento della gestione della spiaggia libera delle dune al WWF. Nei giorni scorsi è stato firmato il rinnovo della convenzione tra il comune di Forte dei Marmi e il centro didattico WWF di Ronchi per la gestione e la tutela ambientale dell'Osi delle dune di Forte dei Marmi, un sodalizio che si avvicina a tagliare il traguardo dei 30 anni, visto che l'area in questione è sotto la gestione del WWF dal 1995 e in cui i volontari hanno provveduto a riportare all'ambiente naturale una zona la cui biodiversità veniva distrutta ogni estate con l'arrivo del turismo di massa. Diciamo che dall'inizio degli anni 90 noi volontari del WWF abbiamo messo gli occhi su questo lembo di terra della nostra Versilia perché ritenevamo avesse delle emergenze da tutelare, che erano le ultime dune. Infatti tutti gli altri luoghi sono utilizzati come spiagge private, diciamo dei maniali, però sempre spiagge dal punto di vista di utilizzo balneare. Mentre questo invece era un pezzo di terra ai 400 metri, diciamo abbandonato, che in quel tempo aveva avuto bisogno naturalmente di un aiuto da parte di qualcuno e qualcuno è arrivato. I volontari del WWF, grazie a tutte le amministrazioni che si sono succedute, hanno potuto permettere la rinascita di questo spettacolare luogo. Con questa firma il Comune si impegna a versare all'Associazione 12.000 euro annui in una convenzione triennale. Una zona che è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione da parte dell'amministrazione con la realizzazione dei servizi igienici a servizio della spiaggia libera. Serata finale lunedì sera del premio Sport Viareggio. Al Principino ci sono state infatti le premiazioni, presente anche Fabio Capello. L'uomo di sera del Grand Hotel Principe di Piemonte è stato teatro dell'atto conclusivo del premio Viareggio Sport, giunta alla 39esima edizione, che oltre ai padroni di casa ha il tangibile sostegno della Banca della Versilia, Lunigiane, Garfagnana e Bosch. Il comitato organizzatore è preseduto da Andrea Biagiotti. Siamo soddisfatti di avere qua delle personalità del mondo sportivo che sono anche nella vita delle persone piacevoli con le quali intrattenersi è veramente un privilegio. Tra i premiati l'ex calciatore e allenatore Fabio Capello che ha dichiarato che il campionato di Serie A si è riaperto. Mi sembra un momento, il campionato è molto interessante. Pensavo a un Napoli in fuga in lotta solo con l'Inter, invece sono tutti lì, una bella mischia. Paladino in discussione qualche settimana fa, ora invece con questi risultati ha zittito tutti. Questo è il calcio. È il calcio. Bisogna vincere, infatti le cose più importanti sono i risultati e poi si vede anche il bel gioco. L'arbitro internazionale Fabio Maresca è un altro dei premiati. È stata una bellissima sorpresa quando sono stato telefonato, è sempre un grande piacere sapere di essere considerato per un premio così prestigioso, poi in un luogo così importante e bello, rappresentativo di questa città. Con un video messaggio c'è stato un saluto di Alessandro Del Piero che ha ricevuto il premio ad Empoli. Il 2006 ci sono, oltre a quello, anche tanti altri esempi che mi ricordano Viareggio. Io ho giocato il torneo di Viareggio, l'avvice a Viareggio. Abbiamo mille di queste cose con i tuoi ricordi a Viareggio. L'evento è stato presentato da Alessandro Bonana di Sky Sport e Muzio Gianni. Bene, con questo si chiude la pagina dedicata alla Versilia, alla Costa Puana e al TG Innoio. Mi fermo qua. Grazie per l'attenzione e arrivederci.